Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo spazio che Linea Pelle ha dedicato alla sostenibilità che si chiama Green Theater dove oggi e domani si svolgeranno una serie di talk molto brevi sul tema della sostenibilità della pelle intesa in tutte le sue varie sfumature, molto ampie sfumature il modo migliore per iniziare questa serie di talk sulla sostenibilità è presentare quello che per Unisconcerie italiane è un lavoro lungo, importante, che dura da 19 anni, cioè l'elaborazione e la produzione di un rapporto di sostenibilità lo presenteranno Fabiana Orlandi del servizio ambiente di Unisconcerie italiane e Luca Boltri, vice direttore di Unisconcerie italiane che è l'associazione di riferimento e di rappresentanza per l'industria conciaria italiana di cui poi Luca ci spiegherà qual è l'importanza e la leadership a livello internazionale il punto di partenza di questa presentazione può essere preso un po' alla lontana e potremmo partire da una frase dell'amministratore delegato di Louis Vuitton, Michael Burke perché ci permette di capire e di dare un assist poi ai nostri relatori per spiegare il senso vero e concreto di questa lunga attività che Unisconcerie fa per contestualizzare l'impegno di tutto il settore nazionale nel senso della sostenibilità l'amministratore delegato di Louis Vuitton a un quotidiano francese qualche mese fa ha detto questo la moda deve andare oltre la dichiarazione buona per gli uffici di public relation deve impegnarsi in sforzi necessari per quanto tediosi e lunghi se vogliamo arrivare a un cambiamento duraturo e realmente d'impatto in questo senso dobbiamo avere metodi condivisi per misurarlo altrimenti non si faranno progressi e resteremo fermi alle dichiarazioni delle public relation ecco, vorrei iniziare con Luca e chiedergli in che modo da 19 anni e perché Unisconcerie pubblica questo ripro di sostenibilità e in che modo questo prodotto va oltre le dichiarazioni delle public relation grazie Luca, buongiorno a tutti innanzitutto giusto una parola unice è l'associazione di categoria che rappresenta l'industria conciare italiana a livello nazionale e internazionale siamo membri di Confindustria siamo membri delle principali rappresentanze di settore a livello internazionale Cotans e ICT e la nostra mission è quella di rappresentare ovviamente l'industria a livello istituzionale ma anche dare servizi per le imprese associate e in generale per il settore la frase che hai citato dell'amministratore delegato di Louis Vuitton secondo me è emblematica di quello che poi anche l'approccio che la nostra associazione ha sempre tenuto quando si parla di sostenibilità al giorno d'oggi parlano tutti di sostenibilità forse il problema principale è proprio quello che si accennava prima cioè se ne parla, se ne parla tanto bisogna vedere se dietro alle parole poi ci sono dei fatti e secondo me è particolarmente interessante anche analizzare l'espressione usata a me piace molto che sia stato utilizzato il termine misurare proprio perché la misurazione della sostenibilità è la base che deve impostare tutti quelli che sono i progetti, i lavori, le strategie, le politiche per il miglioramento degli impatti che un'industria può avere a livello ambientale a livello sociale e sul piano dell'etica di prodotto noi come Unic, come associazione agiamo principalmente con lo scopo di supportare le imprese conciarie italiane nei loro percorsi di miglioramento della sostenibilità in tutti quelli che sono gli ambiti che la compongono e quando parliamo di sostenibilità del processo conciario e della produzione di pelle gli aspetti sono molteplici toccano come accennavo prima queste tre aree quindi l'area ambientale, l'area sociale e l'area etica non è ovviamente un'attività semplice è un'attività complicata è un'attività che ovviamente necessita di visione, di investimenti di porre in essere anche a livello di mentalità una serie di azioni per cercare di arrivare un po' oltre cioè andare oltre quello che è il quotidiano aziendale di tutti i giorni per vedere che cosa si può fare di meglio, come si può migliorare noi come associazione appunto supportiamo le nostre aziende in questo senso in che maniera? Principalmente essendo per la stragrande maggioranza in Italia di acconcerie di dimensioni medio piccole quindi realtà aziendali che molto spesso magari non si rendono conto di quanto fanno sostenibilità di quanto hanno fatto sostenibilità e di quanto hanno già in testa di migliorare la propria sostenibilità quindi l'associazione da questo punto di vista supporta quella che è per esempio l'attività di misurazione e di comunicazione dei progetti in ambito sostenibilità oltre ovviamente agire in termini diciamo di hub quindi di collettore di best practice già operative all'interno del settore ma anche di stimolo per il miglioramento l'associazione in essere tantissimi progetti e rapporti di sostenibilità serve anche a noi per fare il punto ogni anno su tutto quello che si sta facendo e si vuole fare in futuro e agisce da stimolo proprio perché dialogando continuamente sia in ambito normativo che nei rapporti quotidiani che si instaurano all'interno della filiera con i fornitori e con i clienti si cerca di intuire quelle che sono un po' le tematiche su cui si dovrà andare a sviluppare il miglioramento della sostenibilità e si cerca quindi di aiutare le aziende attraverso appunto la creazione di partnership la condivisione di informazioni la creazione di progetti congiunti che possono aiutare il maggior numero di imprese in tal senso è ovvio che non tutte le concerie in Italia hanno la stessa attenzione la stessa sensibilità lo stesso impegno verso questi temi il ruolo dell'associazione è anche quello di sensibilizzare tutti affinché tutti si possa progredire in questo senso ecco tu hai usato un verbo importante che è migliorare il verbo migliorare fa capire come la sostenibilità al contrario di come spesso viene anche presentata non è un concetto statico non è un obiettivo da raggiungere ed essere contenti di averlo raggiunto ma è un obiettivo è una sfida continua è un processo di miglioramento continuo quindi è un processo dinamico di questo processo dinamico il rapporto di sostenibilità di Unic è un esempio perché nella prima edizione 19 anni fa è nato in un modo e nel tempo si è evoluto ed è arrivato a essere un prodotto simile ma per certi versi completamente diverso quest'anno in che modo chiediamo a Fabiana si traduce questa prima di entrare poi nel dettaglio di quello che racconta l'ultima edizione in che modo si traduce per Unic e nel rapporto di sostenibilità questa idea di dinamicità del concetto green di sostenibilità grazie Luca per la domanda allora la sostenibilità come già sottolineavi tu è un concetto dinamico la sostenibilità è un percorso di fatto è un percorso che ha un inizio ma che non ha mai una fine nel senso che nell'ottica del miglioramento continuo si va sempre avanti si va sempre avanti e da 19 anni fa quindi il primo report è data 2003 anche il nostro report ha avuto un percorso e ha avuto un'evoluzione un'evoluzione che di fatto rispecchia nel report annuale che l'associazione tutti gli anni pubblica un po' anche quello che è il trend anche quello che è il sentito della sostenibilità siamo partiti nel 2003 per i primi anni con un'analisi di dettaglio sulle tematiche ambientali che erano le tematiche più rilevanti più sentite legate proprio anche al concetto di vivere sostenibile di ambiente sostenibile per includere poi successivamente anche gli aspetti sociali in particolare legati al welfare in ambito lavorativo ma non solo anche con tutta quella serie di iniziative che un'impresa come dire socialmente responsabile fa per contestualizzarsi nel territorio e anche nell'ambiente sociale in cui opera per arrivare poi a includere tutta una serie di altre tematiche che riguardano un pochino di più l'aspetto del prodotto quindi quando parliamo di etica di prodotto lo vedremo poi nel dettaglio parliamo anche di che cosa è il prodotto cosa significa dire che un prodotto è sostenibile quali sono gli aspetti legati alla sostenibilità di questo prodotto il report il report 2021 è un po' la sintesi di tutto questo con un focus particolare come diceva Luca per la misurazione cioè la sostenibilità è un percorso come tutti i percorsi devono necessariamente avere uno storytelling quindi io devo raccontare la sostenibilità ma devo anche avere un qualcosa che me la misura non posso autoreferenziarmi come dire lanciando solo claim senza avere però sotto un qualcosa che la misura e un qualcosa che dà evidenza di quello che io sto facendo altro punto importante che segna un importante step nel percorso anche nell'interpretazione della sostenibilità da parte del settore dal report 2019 di fatto l'associazione ha deciso l'associazione scusate la gonceria italiana che l'associazione rappresenta ha deciso di fatto di cogliere la sfida dell'agenda 2030 dell'ONU e quindi di far propri quelli che sono gli impegni dell'ONU per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile interfacciando e intersecando un po' tutti gli investimenti tutti gli impegni tutte le iniziative e collocandole all'interno di questi obiettivi quindi di fatto la conceria italiana si è presa l'impegno per fare come dire la sua parte con tutti gli altri portatori di interesse molto interessante c'è una cosa da capire secondo me prima di entrare nel dettaglio è questa idea del percorso senza fine un percorso che finisce è un investimento che uno decide di fare per arrivare a un risultato invece la sostenibilità è diventata una voce di bilancio continua per l'industria conceria italiana e per le concerie quanto vale questo impegno quanto investe la conceria italiana per gestire il suo impatto sostenibile con la consapevolezza che dovrà continuare a farlo per sempre come tutti vado io allora abbiamo fatto una stima che ovviamente è un numero medio diciamo che più o meno l'investimento si colloca ogni anno attorno al 4% del fatturato 4% che racchiude come dire una importante voce di costo se vogliamo che è quella che è necessaria per ad esempio disinquinare le acque per lo smaltimento dei rifiuti quindi per la gestione se vogliamo di un impatto negativo evitare l'impatto negativo che può derivare dalla gestione dei processi ma questa quota include anche degli investimenti nell'ottica di questo miglioramento continuo cioè degli investimenti ad esempio per l'ammodernamento delle macchine per macchine sempre più efficienti per dei processi sempre più efficienti per una chimica che sia sempre meno impattante per cui in questa quota parte di fatturato c'è di fatto tutto questo ed è importante parlare anche di investimenti e non solo di costi perché il costo di fatto è una variabile secca e sostanzialmente a perdere l'investimento invece è un qualcosa che io metto in gioco per avere poi un ritorno quello che abbiamo visto è che sul medio periodo comunque le aziende che hanno questa attenzione questa sensibilità per la sostenibilità di fatto ottengono e raggiungono anche vantaggi economici pensiamo a una cosa anche semplice e banale pensiamo all'efficienza energetica fare efficientamento significa anche risparmiare costi e quindi di fatto la sostenibilità se ben integrata nei processi azientali diventa e può diventare anche così come l'innovazione tecnologica un vantaggio competitivo che oggi nella situazione di aumento indiscriminato di tutti i prezzi è sicuramente una voce molto importante esatto diventa veramente essenziale entriamo nel dettaglio dell'ultima edizione cosa racconta l'ultima edizione del rapporto di sostenibilità dell'industria conciare italiana quali sono i suoi highlights quali sono le sue voci più importanti ok allora nel report noi abbiamo di fatto individuato quattro macro aree per dare un po' quella che è la tare la summa della sostenibilità così come la conceria italiana la intende innanzitutto partiamo dal materiale perché ci siamo resi conto che non è scontato capire e sapere cosa la pelle è allora la pelle di fatto è un materiale naturale è un materiale rinnovabile perché così come le foreste possono essere continuamente ripiantumate grazie all'allevamento le risorse sono continuamente sostituite e altro aspetto importantissimo è un sottoprodotto dell'industria alimentare spesso come dire i detrattori del materiale ma anche magari per promuovere materiali alternativi come dire portano avanti la tesi secondo la quale la pelle gli animali sono allevati e abbattuti per la pelle ora questo è vero per gli animali esotici in cui il valore della pelle rispetto al valore della carne è ovviamente invertito ed è molto verso la pelle ma nel caso della grandissima parte delle pelli che vengono utilizzate nel settore che quest'anno siamo più o meno nella percentuale del 99,5% sono pelli bovine pelli caprine pelli di pecora che di fatto sono uno scarto dell'industria alimentare ma non solo uno scarto perché lo diciamo noi sono uno scarto perché anche a livello economico il gioco non vale la candela vi invito ad andare a verificare anche sul sito della commissione europea uno studio che è stato fatto per la product environmental footprint della pelle in cui di fatto sono state identificate e riportate le regole di allocazione cosa sono queste regole di allocazione sono delle regole dei fattori che vengono identificati per dare ai vari materiali quindi alla carne alla pelle eccetera gli impatti che derivano dall'allevamento quindi in un'ottica di LCA di calcolo di impronta ambientale di un prodotto dalla culla alla tomba si va a dire ok alla carne spetta l'x% alla pelle spetta l'x% allora tenete conto che fermandoci al macello poi se siete interessati magari con le domande possiamo anche andare più a monte fermandoci al macello il valore attribuito alla pelle e c'è un documento ufficiale della commissione europea che lo dice è il 3,5% in termini di allocazione economica capite che non ha alcun senso allevare e tantomeno abbattere un animale per quel 3,5% l'economia non si reggerebbe tra l'altro sul claim etico che l'associazione ha sviluppato proprio per promuovere nel mercato il fatto che la pelle è un sottoprodotto ci sarà anche un incontro sempre in quest'area quindi vi invitiamo a partecipare altro aspetto importante la pelle è e per legge è definita come un tessuto naturale tridimensionale integro costituito da fibre collageniche tutto quello che non è questo non può essere chiamato pelle è quindi importante anche la terminologia altri materiali succedani possono essere chiamati con altre terminologie con altri in altri modi ma non possono essere definiti pelle non possono essere definiti leather e quant'altro anche perché e questa è come dire una tesi che siamo anche andati a dimostrare attraverso una ricerca solo la pelle alternativa alla pelle solo la pelle alternativa alla pelle in termini di performance e anche in termini di anche contenuto di materiali naturali poi questo lo vediamo in un altro in un altro talk più avanti nella giornata quindi importante partire dal materiale perché ovviamente noi andiamo a documentare e a dare evidenza del perché la pelle è un materiale sostenibile passiamo poi a come dire a dare abbiamo parlato di numeri di misurazione andiamo a dare alcuni valori alcuni numeri per quanto riguarda il quadro economico e il quadro sociale quindi il quadro economico con la leadership che prima diceva Luca è internazionale della pelle quindi la pelle in Italia ha un valore incredibile all'interno della a livello commerciale nel mondo e in in Europa con alcuni dati relativi al quadro sociale con un focus in particolare quest'anno su un aspetto che di fatto riguarda tutta la filiera moda ovvero dell'invecchiamento della popolazione lavorativa che porterà da qua a pochi anni a una vera e propria emergenza in termini di risorse umane impiegate all'interno del settore questa è una dinamica che condividiamo di fatto con tutta la filiera moda dal tessile alla pelletteria alla calzatura è un problema assolutamente generale il cuore comunque del report è sempre stato e rimane la parte ambientale qui vi riportiamo dei numeri che potranno non dirvi molto però questo è di fatto questi tre indicatori sono quelli che noi monitoriamo ogni anno per avere evidenza di quel processo continuo di miglioramento e di quella dinamicità che deve avere l'approccio alla sostenibilità di cui parlavamo prima quindi noi monitoriamo il consumo d'acqua il consumo di energia il consumo di chimici che nelle concerie è un aspetto molto importante rapportato a quella che per noi è l'unità funzionale ovvero al metro quadro di pelle e vedete che questi trend dal primo anno di rilevazione sono stati significativi importantissimo è stata la diminuzione ad esempio del consumo energetico quindi il risparmio energetico ma anche la riduzione del consumo d'acqua così come la riduzione dei prodotti chimici qui vi faccio solo vedere questa schermata non entro molto nel merito anche il tempo è sempre molto tirato però sul report trovate anche tutto il dettaglio poi dei dati ad esempio della produzione dei rifiuti e anche per quanto riguarda gli ottimi livelli di abbattimento degli inquinamenti delle acque da parte dei depuratori consortili una cosa importantissima è che i rifiuti e lo vediamo poi successivamente sono per la gran parte recuperati ed alcuni scarti neanche diventano rifiuti perché perché torniamo alla tesi dell'inizio la pelle è un materiale naturale che costruito nella lungo la sua vita dall'animale quindi attraverso l'alimentazione di proteine vegetali che sono stati costruite dalla pianta a sua volta attraverso la sintesi da CO2 azoto e acqua queste proteine noi ce le ritroviamo di fatto nella pelle e negli scarti queste proteine noi possiamo come dire scioglierle ricavarle ancora dal materiale quindi noi possiamo ricavare sia dalle pelli finite che dagli scarti di lavorazione delle fibre collageniche così o anche come delle molecole di collagene che hanno tutta una serie di diverse applicazioni industriali quindi possono diventare colle biologiche possono diventare carta possono diventare fertilizzanti possono diventare additivi per le industrie alimentare cartotecniche e quant'altro fino a essere ulteriormente scomposte in proteine amminoacidi che tornano di fatto attraverso la formula di fertilizzanti o biostimolanti di fatto di nuovo al terreno in un processo che è assolutamente circolare abbiamo detto l'energia qua vedete alcuni indicatori in particolare in quest'ultimo report ci siamo concentrati anche sull'utilizzo di energia rinnovabile fino ad ora avevamo monitorato il consumo generale di energia energia rinnovabile che le aziende del campione noi tutti gli anni abbiamo dalle 25 alle 30 aziende che partecipano alla raccolta dati che quest'anno ha contribuito per il 70 quasi il 73% sul totale dell'energia elettrica acquistata e comunque per un decimo del consumo totale dell'energia altra importante buona pratica per l'efficientamento energetico del settore è il ricorso e prima si parlava di investimenti un investimento importante è la cogenerazione ad esempio percorso continuo è importante ed è fondamentale chi di voi conosce l'agenda ONU 2030 sa che questo è un aspetto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi è la partnership da soli non si arriva da nessuna parte per arrivare a raggiungere gli obiettivi bisogna fare sinergia bisogna fare squadra con tutti i portatori di interesse in particolare la pelle italiana ha partecipato ed è stata coautrice dell'Eder Manifesto che è stato portato alla COP26 e proprio anche per tale impegno è stata ammessa a partecipare a terra carta iniziativa del principe Carlo nel 2021 inoltre è stato sottoscritto anche in partnership con l'istituto di certificazione ICEC e il WWF una politica per la sostenibilità ultima velocissima prima delle conclusioni per quanto riguarda la parte etica che riguarda in particolare l'approvvigionamento delle materie prime la pelle è un materiale naturale di origine animale quindi la parte etica di fatto è tutta correlata a quella che è proprio l'origine animale del materiale quindi in particolare alla questione dell'animal welfare alla questione ad esempio delle implicazioni che a volte vengono anche citate relativamente ad esempio alle deforestazioni in particolare in Sud America e strumento per dare garanzia su tutto questo importante la tracciabilità qua vedete alcuni progetti che sono stati portati avanti di cui comunque sul report troverete tutti i dettagli grazie Fabiana volevo approfondire per chiudere con Luca proprio questo aspetto legato alla tracciabilità al benessere animale che mi sembrano concetti che comunque non sono nuovissimi ma sono particolarmente sensibili in questi ultimi tempi in relazione soprattutto all'idea delle collaborazioni ultimamente Unic e l'industria italiana della concia ha siglato come raccontava Fabiana una serie di collaborazioni che dimostrano come alla fine serve essere sinergici per arrivare a degli obiettivi o perlomeno per continuare il percorso della sostenibilità sì allora dobbiamo ricordarci sempre che la pelle si muove all'interno di una filiera una filiera che ha delle operazioni a monte e ha ovviamente degli operatori a valle quindi è sbagliato pensare prima parlavamo dell'impegno verso la sostenibilità delle concerie italiane ma è sbagliato pensare che l'impegno si esaurisca all'interno delle proprie quattro mura aziendali facciamo parte di una filiera quindi quando parliamo di sostenibilità dobbiamo ricordarci sempre che siamo inseriti all'interno di una filiera quindi la vera sostenibilità la si fa in collaborazione con i clienti in collaborazione con i partner in collaborazione con i fornitori proprio perché poi alla fine della catena si possa dire che il manufatto che entra nei mercati di consumo sia pienamente sostenibile in questo o quell'altro senso quindi se parliamo di filiera parliamo di tracciabilità e quindi sicuramente la tracciabilità è un elemento importantissimo quando parliamo di impegno per il miglioramento appunto della sostenibilità nel nostro nel nostro ambito questo vuol dire come tu accennavi intrecciare delle collaborazioni molto forti in tal senso faccio un esempio parliamo di collaborazioni e di particip anche per esempio con i clienti i clienti fanno delle richieste in termini di sostenibilità alle concerie e molto spesso le risposte a queste richieste non sono all'interno diciamo delle concerie ma le concerie devono ottenere queste informazioni o comunque sviluppare questo tipo di progetti con chi sta a monte della conceria e quindi è essenziale intrecciare delle collaborazioni in tal senso è essenziale che i nostri fornitori si impegnino insieme a noi a dare un certo tipo di garanzie per esempio in ambito di benessere animale sempre tenendo assolutamente bene in testa il fatto che la pelle è un sottoprodotto della produzione animale con tutte le problematiche legate al fatto che è un sottoprodotto e quindi anche nella difficoltà di interloquire con chi sta a monte della conceria per ottenere un certo tipo di informazioni però questo comunque non significa che non bisogna agire in tal senso in questo ambito l'associazione ha in essere come accennava Fabiana tutta una serie di progetti anche progetti di certificazione e una serie di partecipi che coinvolgono anche attori che fino a qualche anno fa era impensabile che potessero dialogare con l'industria come per esempio le ONG le organizzazioni non governative UNICE e ICEC collaborano da anni con NWF una ONG americana per progetti legati all'istituto di certificazione conciaria su progetti legati proprio alla tracciabilità in Sud America per ovviare a problematiche e rischi legati a deforestazione ultimamente abbiamo mostrato una collaborazione anche con il WWF che non ha bisogno di presentazioni proprio in un'ottica di confronto anche di valorizzazione di quello che il settore ha già fatto perché il settore ha già fatto tanto e molto spesso questo non viene valorizzato nella giusta misura ma anche in un'ottica di continuo miglioramento come si diceva prima è importante dialogare con questi attori anche perché poi sono gli attori che dialogano con la pubblica opinione e che quindi magari se non conoscono esattamente quali sono le dinamiche all'interno della filiera possono anche prendere fischi per fiaschi quindi è importante che ci sia conoscenza reciproca è importante da parte nostra condividere tutta una serie di peculiarità anche della nostra filiera e poi ovviamente c'è la possibilità e questo è è un obiettivo di lavorare assieme perché certo possiamo sempre migliorare ed è giusto anche migliorare con stimoli che arrivano dall'esterno perfetto a proposito di condivisione si è visto prima un codice QR il rapporto di sostenibilità è online quindi si può già scaricare adesso inquadrando questo codice è online e anche disponibile cartaceo che vedete sulle serie se ci sono domande altrimenti possiamo ringraziare salutare Luca e Fabiana e ringraziarli per il loro intervento e la loro presentazione io vi ricordo semplicemente come accennava Fabiana oggi pomeriggio mi sembra tra poco a mezzogiorno c'è un altro talk che approfondirà quella parte dei rapporti di sostenibilità che parla del clai mitico della pelle mentre invece adesso abbiamo la presentazione sulla trasparenza dei materiali la misurazione tramite Radio Carbonio il protagonista sarà Gustavo De Feo che vedo già là pronto in ultima fila grazie mille e a più tardi come on a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi